Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il topo è un piccolo mammifero che appartiene alla famiglia dei roditori. Questo animale è noto per la sua agilità. La capacità di adattarsi a diversi ambienti e per essere uno dei mammiferi più diffusi su tutto il pianeta. I topi sono onnivori, con una dieta che varia a seconda della disponibilità di cibo nel loro habitat. Sono anche famosi per la loro rapidità di riproduzione e per essere portatori di diverse malattie, il che li rende importanti dal punto di vista sanitario e ecologico. I topi hanno dimensioni relativamente piccole, con una lunghezza che varia dai 7 ai 10 centimetri e un peso che può arrivare fino a 25 grammi. La loro aspettativa di vita è generalmente breve, vivendo in media solo due anni. Questi roditori presentano un'ampia varietà di colorazioni, che possono andare dal grigio al marrone chiaro, con il ventre solitamente più chiaro. La loro piccola taglia e il peso leggero li rendono agili e capaci di muoversi rapidamente in cerca di cibo o per sfuggire ai predatori. I topi sono essenzialmente onnivori. La loro dieta include una vasta gamma di alimenti come semi, frutta, radici e insetti. Questa varietà nella dieta li aiuta ad adattarsi facilmente a diversi ambienti. Sono predati da una vasta gamma di carnivori, tra cui gatti domestici, volpi, uccelli rapaci e serpenti. Questa posizione nella catena alimentare fa dei topi una preda fondamentale per molti predatori, svolgendo un ruolo cruciale negli ecosistemi in cui vivono. I topi sono presenti in quasi tutti gli ambienti del mondo, dalle zone urbane alle campagne, dai laboratori scientifici alle foreste e alle aree desertiche. La loro incredibile capacità di adattamento li ha resi capaci di sopravvivere e prosperare in ambienti estremamente diversi. Nei centri urbani, i topi tendono a vivere nei sistemi fognari, nelle discariche e nelle abitazioni, dove hanno facile accesso a cibo e riparo. In natura, preferiscono habitat che offrono sia cibo che protezione, come i campi, i boschi e le aree con vegetazione densa. a 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